Termina oggi il mese sacro dell'Islam, quello del digiuno e dei sacrifici del Ramadan. Stamani tantissimi fedeli musulmani anche tra Napoli e provincia hanno celebrato infatti il giorno della festa denominata Id al-Fitr in cui si rende grazie a Dio per averli sostenuti nello sforzo. La festa inizia con una preghiera di gruppo e prosegue con visite a parenti e amici in cui si scambiano doni e dolci tradizionali in segno di fratellanza. A Napoli la foltissima comunità islamica si è riunita in piazza Garibaldi. Abbiamo aggiunto il tricolore sullo striscione della nostra comunità, ha detto durante il discorso l'imam Massimo Cozzolino, perché rivendichiamo forte la nostra appartenenza a questa terra ed in particolare a questa città che ha una storia di accoglienza e fratellanza. A Giuliano invece i fedeli si sono riuniti al centro di via Marconi. La festa di Ramadan è la fine del 2 giugno che dura 30 giorni. è una scuola, Ramadan è una scuola di imparare, diciamo soffrire, per imparare e sapere la sofferenza della gente che è poche fortunate e poi si fa imparare anche di abbandonare molte abitudini buone e cattive durante l'anno e così diciamo un bagaglio per andare avanti tutto l'anno. Dico sempre che Giuliano è la culla della pace e lo è da molto tempo, anche prima che veniamo noi e le dimostrerà anche questi anni, gli ultimi anni che abbiamo aperto questa associazione culturale qua islamica e non abbiamo trovato nessuna difficoltà, abbiamo trovato una mano, un consiglio, un appoggio, una spalla forte della gente attorno qua, ci siamo una famiglia, ci sentiamo una famiglia. La gente qua sanno bene chi siamo noi, non sappiamo bene chi sono loro, siamo integrati, siamo proprio giulianesi, ci sentiamo così. Grazie. 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 Grazie.